L'uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute, la seconda metà a guarirsi e noi in fuori tempo dedicato appunto alla salute cerchiamo di evitare insomma di rovinarcela completamente o comunque di trovare i rimedi giusti grazie ai nostri ospiti. Ormai li conoscete tutti, siamo purtroppo arrivati all'ultimo nostro incontro ma ritroviamo come avviene in ogni seconda parte le nostre Assunta Mischitelli e Anna Maria Pasqua di Biceglie alla Prodo. Oggi con un bel tavolo colorato, coloratissimo, poi sono i colori della buona dieta. Presentiamo frutta e verdura. La frutta e la verdura appartengono al settimo gruppo degli alimenti che noi mangiamo comunemente. Sono ricchi di acqua, fibre insolubili, zuccheri semplici per la frutta e vitamine. Possiamo distinguere gli ortaggi dalle verdure. Ortaggi sono i prodotti che si ottengono dall'orto. Vuoi dire qualcosa sulla verdura? Qui c'è molto da dire. Che fa molto bene, dobbiamo consumarne almeno 500 grammi al giorno di verdura e di frutta circa un 400 grammi perché sono zuccheri semplici come il fruttosio. Dimmi tu Anna Maria. Allora, dulcis in fundo, verdura e frutta. Dovrebbe essere il nostro alimento da mangiare in maggiore quantità, veramente in misura industriale. Perché? Perché, come vi ho sempre detto, noi ci ammaliamo per due grandi motivi. La carenza di vitamine, sali minerali e oligoelementi è l'intossicazione. Quindi voi sentite in televisione, ormai dappertutto, bisogna mangiare cinque porzioni di frutta e verdura. In realtà io vi dico che non sono neanche sufficienti. Perché? Perché è necessario apportare tantissime vitamine crude perché noi mangiamo tanti derivati animali. che vanno a sottrarre quello che a noi serve. Infatti io faccio usare, per esempio, sia la frutta ma soprattutto la mela e la verdura estratta. Perché? Tutti quelli che mi conoscono lo sanno e sanno anche che io mi sono curata una malattia inguaribile con gli estratti, con i centrifugati. Di che cosa? Di mela, di carota e di foglie verdi. Perché proprio nelle foglie verdi c'è quello che a noi serve. Le vitamine del gruppo B, per esempio, anche il calcio lo troviamo. Quindi non è necessario mangiare, come abbiamo detto nelle altre puntate, tanti formaggi. Ma dobbiamo mangiare tantissime vitamine. Io vi spiego a cosa servono queste vitamine. Servono a far funzionare bene le cellule, ad aumentare le difese immunitarie. Perché? Ecco perché noi ci ammaliamo sempre e continuamente. Perché manchiamo di questi micronutrienti. Infatti nella popolazione occidentale noi abbiamo un eccesso di macronutrienti e una diminuzione di micronutrienti. A differenza di quello che avviene per esempio in Africa, dove lì c'è praticamente una carenza, una malnutrizione di tutte e due le cose. Da noi c'è una malnutrizione dei micronutrienti. Quindi è necessario mangiare frutta. Perché? Per lo stesso motivo. Quindi vitamina C, vitamina B, vitamina D. La vitamina D la prendiamo dal sole. Fibre. Allora le fibre. Le fibre sono indispensabili al nostro organismo. Ecco perché molte patologie in questo ultimo periodo di tumori al colon si parla molto. Perché noi le fibre non le mangiamo mai. Quindi è importante mangiare le fibre perché rappresentano un nutrimento per i batteri buoni che colonizzano il colon e non solo. E poi rappresentano anche una barriera. Io consiglio sempre per esempio di mangiare una verdura cruda prima del pasto principale. Perché? Perché va a creare una barriera a livello intestinale e quindi riduce l'assorbimento dello zucchero per esempio. Quindi non alza molto la glicemia. E poi porta via tutte le scorie. Ecco perché adesso il periodo della stipsi da un senso di sazietà sicuramente. Quindi va bene per le diete. Ma a quello che a noi interessa appunto parlando di salute è che porta via tutte le scorie attraverso le feci. Perché noi dobbiamo ricordare che abbiamo degli organi montori che buttano fuori le scorie. Quindi ecco non abbiamo parlato ancora dell'acqua per esempio. L'acqua è fondamentale e la frutta e la verdura crudine contengono tantissima. L'acqua è fondamentale per la vita. Infatti senza acqua si muore. Senza cibo possiamo stare per un lungo periodo. Ma senza acqua si muore. Perché? A che serve l'acqua? Serve a trasportare tutti i nutrienti all'interno della cellula. Tutte le reazioni avvengono con l'acqua. Le reazioni all'interno della cellula e se funziona la cellula funziona l'organo. E poi ancora di più le tossine vengono buttate fuori con l'acqua. Molta gente è disidratata. Io ho tanti pazienti veramente dai giovani e soprattutto negli anziani perché non sentono la necessità di bere. Quindi la disidratazione porta a tanti problemi. Problemi anche a livello di dolori. Problemi a livello cognitivo per la memoria per esempio. Quindi l'acqua è fondamentale. Ricordiamoci che siamo del più del 70% di acqua. Quantità di acqua giornaliera? Dipende dalle persone. Ma io consiglio almeno due litri d'acqua che sia dell'acqua buona ovviamente. Di solito non si devono usare le bottiglie di plastica perché le bottiglie di plastica rilasciano i bisfenoli che sono tossici per il nostro organismo. Allora dicevo due litri d'acqua almeno due litri ma poi è chiaro che se mangiamo tanta verdura e frutta cruda l'acqua può anche diminuire. Non c'è problema perché sono ricchissimi di acqua. L'acqua va bevuta soprattutto in prima mattinata lontano dei pasti, mezz'ora prima del pasto, due ore dopo il pasto. Altrimenti va ad interferire con la digestione. L'uso di integratori? Allora per quanto riguarda l'uso degli integratori io batto molto sull'alimentazione. Noi dobbiamo fare un'alimentazione naturale che comprenda tutto quello che serve al nostro organismo. L'integratore va bene in particolari condizioni quando abbiamo delle carenze ovviamente. Io li uso anche su di me perché voi sapete mi sono curata con 12 centrifugati al giorno che oggi non riesco a fare proprio perché parlavamo prima dello stress e della vita così frenetica. È chiaro che io per la prevenzione della ricidiva del tumore io prendo ancora oggi oltre un'alimentazione sanissima 10 giorni di disintossicazione perché questo è fondamentale. Quindi di alcune vitamine e disintossicazione. Per esempio è importante la vitamina C, naturale ovviamente, perché la vitamina C aumenta il sistema immunitario. Quindi o lo mangiamo, ma dovremo veramente mangiare in quantità industriale, sì, oppure appunto gli integratori, ma sempre sotto controllo di uno specialista e poi poiché c'è una giungla di integratori, quindi è necessario scegliere degli integratori di eccellente qualità. Quindi fidatevi degli specialisti. Disintossicazione praticamente in cosa consiste? Allora, disintossicazione consiste nel... intanto disintossicare l'organismo da questa grossa infiammazione dovuta all'abuso di alimenti animali, ma consiste nel prendere alcune vitamine. Bisogna tornare indietro a quello che faceva Ippocrate, che sono i clisteri, vi ricordate? Si facevano i clisteri per disintossicare l'organismo. Quando per esempio un bambino aveva la febbre, il clisteri serviva a buttare fuori le tossine. E questo è importante. Disintossicazione anche del fegato, dei reni, dell'intestino, attraverso alcune sostanze per esempio che contengano tarassaco, cardiomariano, carciofo, sono tutti importanti per la disintossicazione dell'organismo. Quindi benvenga, mangiamoli, mangiamoli anche crudi. Bene, è l'ultimo nostro incontro, però vogliamo raccontare anche di un sogno, quello della dottoressa Anna Maria Pasqua di Biceglie, una casa della salute. Sì, il mio grande sogno è quello di costruire, con l'aiuto ovviamente di altre persone, la casa della salute. In che cosa consiste? È una grande masseria dove avremo tanta terra a disposizione, dove noi andremo a curare non solo il corpo, ma anche lo spirito, perché è importante. Per esempio per me la preghiera è fondamentale. Sto scrivendo un libro dove appunto dico quello che è successo nella mia vita e dove la preghiera ha avuto un grande posto. Perché la preghiera? La preghiera apre veramente la mente. Noi dobbiamo ricordarci che non siamo nessuno senza l'aiuto del Signore. Noi siamo solo degli strumenti messi a sua disposizione. Quindi quello che voglio fornire in questa casa è che la gente impari a mangiare bene, quindi a curare il nostro organismo, a disintossicarsi, a fare un po' di attività fisica e poi rivolgersi sempre al Signore, perché è Lui la vera arma che abbiamo a disposizione. Allora, grazie Assunta, grazie Anna Maria. Ci spostiamo in cucina. Anche per questa nostra ultima puntata abbiamo raggiunto il nostro chef qui nella cucina dell'Approdo. Siamo in compagnia di Felice Silvestri. Felice Silvestri e in compagnia anche della nostra verdura, amata verdura, di cui abbiamo già parlato dall'altra parte. Felice, da quanto tempo hai questa passione per la cucina? Dall'età di 14 anni. Ho frequentato la scuola alberghiera e poi facevo le stagioni estive. Qui è il primo anno che lavoro qui. E quindi conosci bene anche la nostra dottoressa Mischitelli. Diciamo che vi trovate tutti bene con lei. Sì, sì. Allora, insieme a questi fornelli sempre accesi, questa pentola, questo pentolone, vogliamo oggi vedere come si prepara la verza o il cavolo cappuccio. Va benissimo. Andiamo avanti, procediamo. Intanto è il nostro ultimo incontro. Sì, tu fai pure. Si scartano le prime foglie, che sono sempre un po' le più brutte. Poi la tagliamo. Togliamo la parte dura. E poi gli diamo dei tagli, a seconda di come si vuole tagliare. Io ho sempre paura con questi coltellacci, voi li usate invece in una maniera proprio semplicissima. L'acqua deve già bollire? Sì, l'acqua bolle. Dopodiché la laviamo e la andiamo a mettere all'interno. di questo contenitore. Che non va direttamente in acqua? No, no, non va direttamente in acqua. Viene messa in questo contenitore che viene cotta a vapore. Così mantiene le proprie proteine. Non perde nulla? Non perde nulla. Sarà contenta la nostra dottoressa, Anna Maria, vero? Sì, sicuramente. È preferibile una cottura a vapore anziché la cottura in acqua bollente, come siamo abituati a fare. Anzi, io direi di più che mangiandolo crudo, per esempio, con olio e simi di cumino, veramente conserva tutte le qualità. Sali minerali e oligoalimenti che noi perdiamo, come abbiamo già precedentemente parlato, sono indispensabili per la nostra salute. Quando li mettiamo in acqua bollente noi perdiamo tutto. Ecco perché ci stiamo ammalando, ricordatevelo questo. Quanto tempo ha bisogno di cottura? 20 minuti. 20 minuti. Poi dipende sempre dalla verdura che si va a cuocere. Sì, sì, dipende dal tipo di verdura. Se è più dura. Quindi ci troviamo con i tempi. Ed è sempre preferibile questa qui a vapore. Perfetto, noi siamo arrivati al nostro ultimo incontro, proprio in tua compagnia, Felice. Quindi saluteremo insieme e ringrazieremo chi ci ha seguito fino ad oggi. Grazie. Io personalmente ringrazio l'Assunta Mischitelli che ci ha ospitati qui all'Approdo. Ma anche tutta la struttura siamo ospiti anche noi. E soprattutto ringrazio te perché ci hai presentato la nostra bravissima dottoressa alla quale ci siamo affezionati tutti, Anna Maria Pasqua di Piceglie. Grazie. Vogliamo chiudere con il tuo motto, Anna Maria? La vita è preziosa, abbine cura. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Profittiamo di questa occasione per ringraziare di cuore Anna Maria Pasqua di Piceglie e Assunta Mischitelli che ci hanno illustrato il buono e il cattivo a tavola, come hanno fatto in ogni nostro incontro. Grazie a voi, arrivederci alla prossima puntata di Fuori Tempo dedicata alla morte. Grazie a tutti.